Per le casalinghe e i casalinghi, i rischi in casa ci sono ogni giorno, le scale, un coltello, gli elettrodomestici. Per tutelare il tuo lavoro domestico, non scegliere strumenti a caso. Assicurati con Inail. Costa solo 12,91 euro l'anno. Puoi pagare negli uffici postali oppure online entro il 31 gennaio 2014. E se hai un reddito basso, paga lo Stato. Per saperne di più, vai su Inail.it Per saperne di più.